E non si placano, a proposito del decimo municipio, le polemiche sul prolungamento del commissariamento. Il comitato spontaneo basta commissariamento del decimo municipio si scaglia direttamente contro il prefetto Volpiani. Abbiamo letto con sorpresa le sue dichiarazioni nelle quali si lascia intendere che la partecipazione di mille persone al corteo sia stata condizionata dal rifiuto del ripristino delle regole, si legge nella nota del comitato, che prosegue «semmai non accettiamo la sottrazione del diritto del voto per più di 24 mesi senza una chiara rendicontazione di quanto fatto finora». In quella manifestazione c'erano persone che la Commissione ha rifiutato di ricevere, associazioni che attendono decisioni rinviate, volontari che non riescono a dialogare con l'amministrazione, sportivi, parruci, comitati di quartiere, professionisti, pendolari, semplici cittadini che amano il posto dove vivono e che lo vedono stravolto da un degrado urbano inenarrabile. Intervenire per delegittimare un corteo che ha espresso concetti democratici è inaccettabile. Ribadiamo che non abbiamo manifestato contro lo Stato, ma ci siamo appellati ad esso, perché qui nessuno ancora ha capito cosa sia stato fatto per contrastare la criminalità, ha concluso il comitato.